Alzi la mano chi di voi non ha mai visto un film di James Bond? Penso ci sia un po' che mani alzate, no? Magari qualcuno in più se chiedessi quanti di voi hanno letto i romanzi di Ian Fleming. Ecco, forse lì già potremmo trovare qualche mano abbassata in più, no? D'altronde, perché illudersi? Il personaggio è diventato famoso con il cinema, a partire dal suo debutto nel 1962 con Dottor No, tradotto in italiano come Licenza di Uccidere, fino a No Time to Die, uscito un annetto fa. Ok, adesso voi vi domanderete, ma cosa c'entra James Bond con un canale che si chiama Dentro la Storia? Ok, ve lo spiego subito. Non parliamo tanto di James Bond. Abbiamo parlato in passato di personaggi che possono aver ispirato James Bond. Vedi, il coniglio bianco, il colonnello Io Thomas, potete ritrovare il video nel canale. Oppure abbiamo parlato anche di qualche curiosità storica legata a Ian Fleming e allo sviluppo del suo personaggio. Ma avete mai riflettuto sui cattivi, i villain che si vedono nei film di Bond o che si trovano tra le pagine dei libri di Fleming? Villain molto particolari, che però spesso e volentieri hanno un background storico piuttosto evidente. O, in qualche caso, hanno ispirato delle organizzazioni criminali realmente esistite. Vediamolo un po' nel dettaglio. Il primo nemico che Bond incontra nei romanzi, non al cinema, è la Smirsch. Già da Casinor Royale, romanzo scritto nel 1953, quindi quasi 70 anni fa, Bond si misura con un reparto di controspionaggio sovietico, il cui nome è l'acronimo di Smiert Spionan, cioè morte alle spie. È esistita la Smirsch? Sì, effettivamente sì, ma non all'epoca in cui Ian Fleming stava scrivendo Casinor Royale, e men che meno nei sequel, perché da trono nei libri la Smirsch torna con Vivi e Lascia Morire, torna con Missione Goldfinger, torna con 007 dalla Russia con l'amore. Invece Smirsch era già chiusa da tempo, chiusa nel 1946. Smirsch nasce durante la Seconda Guerra Mondiale come reparto di controspionaggio e di eliminazione di infiltrati per conto dell'Armata Rossa da parte dell'Encavede, l'antenato, diciamo così, del KGB e del GRU. Ebbene, quel reparto di controspionaggio ed eliminazione interna era noto ovviamente anche in Occidente, d'altronde Ian Fleming era stato ufficiale dell'intelligence della Marina durante la guerra, e è chiaro che qualche informazione sulla controparte sovietica l'aveva sicuramente ottenuta. Così Fleming aveva deciso di riesumare Smirsch per farne il nemico principale di Bond, almeno per i primi romanzi, almeno fino all'epoca della distensione, quando anche per ragioni, soprattutto per ragioni politiche, non si poteva più pensare di proporre un nemico smaccatamente sovietico. Smirsch, tra l'altro, tornerà al cinema. Nel 1987, con Zona pericolo, il primo Bond movie con Timothy Dalton nei panni dell'agente segreto, ma sarà un approdo un po' particolare, perché d'altronde la sigla Smirsch verrà utilizzata solo come un'operazione di falsa bandiera da parte di un rinnegato, un doppiociutista, il generale Georgi Koschkov, che finge di volersi vendere all'Occidente, ma in realtà vuole solo portare avanti un suo progetto di contrabbando, ma di questo parleremo dopo. Passiamo a Spectre. Spectre, nell'immaginario collettivo, è la nemica per eccellenza di James Bond. E se noi diciamo Spectre, voi penserete subito alle varie incarnazioni di Ernst Stavro Blofeld, prima Anthony Dawson, di cui non si vede mai la faccia nei primi film, poi il volto con la cicatrice riconoscibile di Donald Rizans, successivamente Telly Savalas, e così discorrendo. E sempre con quel famoso gatto bianco da accarezzare. E poi magari penserete al numero due, Emilio Largo, interpretato dal nostro Adolfo Cieli, penserete a tutti i tirapiedi che si sono succeduti nel tempo, fino agli ultimissimi film, quando Spectre è tornata dopo un lungo silenzio dovute a cause legali. Spectre, che secondo la penna di Ian Fleming nasce da un insieme di ex agenti della Smerz, ex affiliati a Cosa Nostra, killer mafiosi, ex dell'Unione Corsa, che tradiscono Marcange Draco, il capo dell'Unione, ex contrabbandieri e avventurieri, sarebbe una sorta di network del crimine. Un network che vive per delle ragioni precise, cioè l'estorsione, il ricatto, la ritorsione, la vendetta e l'omicidio. Tutto all'insegna di un ombrello del terrorismo internazionale. Ora voi direte, ma da chi ha tratto ispirazione Ian Fleming? Beh, veramente da nessuno. Spectre emerge negli anni Sessanta, all'inizio degli anni Sessanta, però è possibile, e l'abbiamo già visto in un nostro video, che Spectre possa avere influenzato la nascita di un vero network del terrore. La Ginterpress, che aveva sede a Lisbona, e come la Ginterpress aveva una facciata rispettabile, legale, quella appunto di un'agenzia di stampa internazionale, con tanto di inviati accreditati in buona parte d'Europa e anche in Africa, anche Spectre aveva la sua facciata rispettabile. la FIRCO, Fraternità Internazionale della Résistance contro l'Oppressione, in sede di Boulevard Haussmann, numero 136 bis, a Parigi. Una finta organizzazione non governativa di supporto ai rifugiati. Era questa la faccia rispettabile, il paravento dietro cui si celava a Spectre. Chi lo sa se Yves Guiou, detto anche Ralph Garense-Rack, il fondatore di Ginterpress, abbia preso ispirazione direttamente da Fleming per creare la sua agenzia del terrore. Non glielo possiamo chiedere, d'altronde è scomparso nel nulla. Però il sospetto rimane. Anche per i tanti agganci, il fatto che la Ginterpress era come Spectre, un network che radunava al suo interno persone provenienti da tante esperienze differenti, i neofascisti italiani, gli ex piednoire, gli ex dell'OAS in Algeria, i portoghesi che davano ovviamente il loro supporto, poi gli argentini della triplice A, ma anche i franchisti spagnoli. C'era un po' di tutto, come in Spectre. E anche questo, ci resta un po' il dubbio che effettivamente non se ne sia parlato abbastanza. Ma andiamo oltre, arriviamo al 1973, Fleming è morto già da qualche anno, al cinema arriva Vivi e lascia morire. È l'ottava pellicola ed è anche quella che segna il debutto, nei panni d'agente segreto, di Roger Moore. Il nemico di Roger Moore nel film è Mr. Big. La trama è un po' diversa rispetto al libro originale, scritto da Fleming. E anche il cattivo viene tratteggiato differentemente. Mr. Big nel film ha un alias, il dottor Kananga, primo ministro di una piccola isola carabica di nome Saint-Monique. Il nome è francese, la location carabica e soprattutto il voodoo, rimandano a un personaggio realmente esistito. Papadoc, al secolo, François Duvalier. Il capostipite della dinastia Duvalier, un dittatore che aveva preso il potere ad Haiti e lo aveva esercitato fino alla morte, basandosi su un mix di terrore, superstizione popolare e voodoo. Lo stesso François Duvalier, per terrorizzare la popolazione, ogni tanto si mostrava nelle vesti del Baron Samdi, il capo della legione dei morti, una delle divinità cardine del voodoo. Quel Baron Samdi che in Vivi e lascia morire fa diverse apparizioni abbastanza inquietanti. Tra l'altro, piccola curiosità, sempre nella stessa pellicola viene omaggiato un lato un po' segreto di Ian Fleming, cioè il suo appartenere alla massoneria. I tarocchi utilizzati dalla bella Solitaire, interpretata dalla giovanissima attrice Seymour, i tarocchi sono la Bibbia illustrata della massoneria, al punto che in una scena, quando Roger Moore, James Bond, entra in un negozio di tarocchi a Saint-Monique, si vede in vetrina la prima carta dei tarocchi con le due colonne che ornano anche i templi massonici. E questa, appunto, è solo una piccola curiosità. Andiamo oltre. Arriviamo al 1985. Esce l'ultimo film della sub-saga che vede protagonista Roger Moore. A View to a Kill, in italiano viene reso come bersaglio mobile, un po' difficile da tradurre in italiano vista sull'assassino, no? Allora, si preferisce bersaglio mobile. L'antagonista è Max Zorin, un personaggio completamente inventato rispetto alla saga dei romanzi di Fleming. Ma quello che a noi interessa non è tanto Max Zorin in sé, quanto il suo padre non biologico, ma putativo, scientifico, il dottor Karl Mortner, alias Hans Glaube, tedesco, ex nazista, specialista di genetica. Vi ricorda nessuno? Bravi, avete indovinato. Esattamente lui, Mengele. È chiaro che gli sceneggiatori si sono ispirati al criminale nazista che era scomparso alcuni anni prima, morto in seguito a un attacco di cuore in Brasile, e che per questo motivo era rimasto comunque nel immaginario collettivo come il cattivo inafferrabile e soprattutto sadico, perverso, dedito a sperimentazioni illegali. Max Zorin, secondo la biografia del film, nasce in un laboratorio nazista in seguito agli esperimenti perversi del dottore. Quando il regime nazista cade, il medico e la sua creatura prediletta passano al servizio del KGB. Certo, Mengele non si è mai sognato di porre i propri servizi ai sovietici, però le radici sono quelle, e anche questo è qualcosa che a volte ci dovrebbe far riflettere. Arriviamo al 1987. Esce 007, zona pericolo. In realtà anche qui il titolo sarebbe diverso, è The Living Daylights, è un'espressione shakespeariana che vorrebbe dire sostanzialmente lo sguardo, gli occhi. Chiaro che in italiano non rende abbastanza come titolo. Il protagonista, come abbiamo già detto, è Timothy Dalton, abbiamo già parlato di Georgi Koshkov, ma soprattutto ci sono i Mujahideen, l'Afghanistan e l'oppio. È un tema un po' delicato, quello del traffico di sostanze stupefacenti, soprattutto al cinema, soprattutto in saghe come quella di James Bond. È vero che se ne era già parlato in Vivi e lascia morire, dove Mr. Big alias Kananga traffica anche lui in oppio, ma qui ci si cala direttamente nella realtà. Una realtà cruda, reale. Già perché effettivamente alcuni reparti di Mujahideen hanno finanziato la loro guerriglia contro l'Unione Sovietica vendendo oppio. E anche dopo la fine della guerra con l'Unione Sovietica, per lungo tempo l'oppio è stata una delle fonti principali di sostentamento per l'agricoltura afghana, al punto da determinare delle campagne delle Nazioni Unite per cercare di convincere i contadini a non coltivare più il papavero e sostituirlo con altre coltivazioni. Anche questo è un qualcosa che ci può far riflettere, così come la figura dell'antagonista del successivo film con Timothy Dalton, ossia Vendetta Privata. Anche qui sarebbe in realtà License to Kill, ma il titolo è già stato utilizzato nel 1962 per Dottor No, e quindi i doppiatori italiani hanno dovuto fare altrimenti e arrangiarsi un pochettino. Ecco, Franz Sanchez, interpretato da Robert Davy, è sostanzialmente Pablo Escobar. Lo capiscono un po' tutti. È un po' difficile non cogliere la natura del personaggio, per quanto la faccia butterata di Davy sia completamente diversa dal viso pieno e baffurto del vero Pablo Escobar. Però le circostanze ci sono tutte. Un traffico di droga, un signore della droga spietato, addirittura il riciclaggio che avviene a Panama, che nella finzione viene chiamata Istmus, ma d'altronde qual è la città dell'Istmo più famosa al mondo? La città di Panama, appunto. Film non riuscitissimo, però con diversi agganci nella storia reale. Così come, diversi anni dopo, desta un po' di scandalo la figura di Elliot Carver, il cattivo per antonomasia di Il domare non muore mai, la seconda pellicola che vede Pierce Brosnan nei panni di 007. Elliot Carver è un magnate dei media, un magnate un po' spietato dei media, che preferisce costruirseli in casa, gli scoop, soprattutto quelli più truculenti e quelli più guerrafondai. Secondo diversi analisti, sostanzialmente, l'ispirazione è arrivata da Rupert Marduk, che non è, diciamo, beneficio di tutti voi che ascoltate, ma soprattutto gli avvocati di Rupert Marduk, non è un clone di Elliot Carver e non ricorre alla fabbricazione di notizie o a provocare dei casus belli per avere successo nel suo business, per carità. Però, come Elliot Carver, Rupert Marduk controlla una vasta rete mondiale di testate giornalistiche e di network televisivi e di intrattenimento. Forse gli sceneggiatori hanno voluto mettere in guardia lo spettatore dal rischio connesso a un errato uso dei mass media. Chiudiamo con uno degli avversari più recenti di James Bond, Raul Silva, alias Tiago Rodríguez, un avversario che ha fatto epoca al cinema, d'altronde è il primo nemico apertamente omosessuale di Bond, anche se ci erano già stati degli scagnozzi in passato negli altri film che davano appunto segnali chiari del loro orientamento omosessuale. Ma quello che a noi interessa non sono tanto i gusti in camera da letto di Raul Silva, quanto la sua attività. Raul Silva incarna il simulacro ideale degli hacker, non gli hacker che agiscono in solitaria, no, quelli della guerra non lineare, quelli del tecnoterrorismo. Sono argomenti di strettissima attualità. Skyfall, che è la pellicola che vede antagonista Raul Silva, esce dieci anni fa, nel 2012, quando la guerra degli hacker, diciamo che è gli albori, da poco tempo si vedono attacchi coordinati e a volte addirittura preordinati da qualcuno. Raul Silva è il capo di un'organizzazione, poi si scoprirà sub-organizzazione di Spectre, che conduce cyberattacchi un po' in tutto il mondo, contro le borse valori, contro le multinazionali, contro i siti governativi. Non dice lui, tutto al miglior offerente. È in pratica un insieme tra la figura accertata dei cosiddetti hacker russi, ne abbiamo parlato con la collega Marta Ottaviani qualche settimana fa, e quella delle varie reti indipendenti di hacker che invece agiscono mossi solo da motivazioni economiche. Il ricatto che viene fatto a danni di privati cittadini o di aziende con il sequestro, tra virgolette, dei domini che vengono dissequestrati in cambio di un pagamento in bitcoin. Anche Raul Silva, quindi, incarna una parte di storia, storia recentissima, più che contemporanea, diremmo attuale, nella nostra società umana. E allora, concludendo, cosa possiamo dire? Possiamo dire che James Bond è anche una sorta di lente attraverso cui guardare i nostri tempi? Beh, perché no? I film, meglio ancora che i libri, hanno dato una chiave di lettura diversa, hanno anche anticipato alcune tematiche e alcune innovazioni tecnologiche. Pensiamo alla celeberrima Aston Martin di B5 di Goldfinger che all'interno addirittura è il GPS. Eravamo a metà gli anni Sessanta. Oggi il GPS nelle auto è di serie, ma all'epoca chi poteva pensare a uno strumento del genere? James Bond è quindi stato un innovatore tecnologico, un innovatore di costumi, ma ha anche dato una chiave di lettura molto preziosa per quello che riguarda fenomeni storici, antagonisti politici e militari, e situazioni a volte scabrose, come quelle del traffico di droga. Chi lo sa, magari quando vedrete il prossimo film di Bond, di cui ancora non sappiamo nulla, perché No Time To Die, come detto, è uscito solo un anno fa e ci vorrà del tempo per vedere un nuovo Bond al posto di Daniel Craig e una nuova saga. O quando rivedrete i vecchi film, quelli di Sean Connery, l'unica pellicola, ovvero al servizio segreto di Sua Maestà, del 1969, con George Lassenby, non esattamente il miglior Bond del cinema, le sette pellicole record assoluto di Roger Moore, le due di Timothy Dalton o le quattro di Pierce Brosnan, chissà, magari rivedendole, ripenserete anche a questo video. E chi lo sa, potrebbe tutto ciò generarvi qualche riflessione in più. E perché no, potreste anche scriverci con le vostre indicazioni, se troverete qualche altro aggancio tra i cattivi dei film di Bond e il mondo reale. Noi siamo sempre qui e vi aspettiamo. A presto! Autore dei sovrapposti